La parola chiave è ritorno, quella in codice, Superlega. Protagonista di questa storia è la Callipo Volle, ormai praticamente con tutti e due i piedi nell'olimpo della pallavolo, dopo il sì, più o meno unanime, ricevuto in assemblea di tutti i club di A1. La wildcard è solo una formalità che verrà ratificata ed ufficializzata nelle prossime ore. Vibo Valencia torna nella torneo più importante d'Italia e di sicuro non può e non vuole farsi trovare impreparata. Dal giorno della delusione in finale playoff contro Sora, due, gli obiettivi della dirigenza giallorossa, provare a rientrare dalla finestra in Superlega, costruendo un gruppo di tutto rispetto. Il primo obiettivo è già in tasca, il secondo è in fase di costruzione. Vibo vuole tornare a sorprendere nel massimo torneo di pallavolo e vuole farlo puntando su due cavalli di razza che hanno già scritto pagine importanti del club di Viale della Pace. Manuel Coscione da una parte e Rocco Barone dall'altra, regista il primo, centrale il secondo. Il palleggiatore di Cunio ha vestito la maglia gelorossa per tre stagioni, indossando anche la fascia di Capitano, il centrale di Palmi. Ha praticamente toccato per la prima volta il pallone a Vibo, fino a raggiungere la nazionale. Coscione proviene da Piacenza, Barone da Molfetta, entrambi, salvo clamorosi sviluppi, si ritroveranno a Vibo a distanza di tre stagioni. Alessio Bonpasso per la Cineus 24.